Nuove tecnologie in ambito medico, specificatamente afferenti al comparto oncologico. Ne parliamo con il dottor Casà. Buongiorno a tutti. In ambito oncologico i progressi tecnologici hanno consentito una rivoluzione delle cure e della decisione di quale terapia proporre al paziente. In particolare io mi occupo di radioterapia oncologica in Università Cattolica al Policlinico Gemelli. La nostra divisione è l'Advanced Radiation Therapy, ovvero il Gemelli ART. Da un certo punto di vista è un polo di innovazione tecnologica. Abbiamo uno dei pochi macchinari ibridi con risonanza magnetica per radioterapia che ci consente di vedere in tempo reale la malattia che si muove, ad esempio con gli atti respiratori, e di seguirla per indirizzare il trattamento. Dall'altro lato abbiamo dei laboratori di ricerca che ci consentono di applicare le tecnologie di fare ricerca utilizzando ad esempio l'intelligenza artificiale e gli strumenti di predizione della categoria del rischio dei pazienti che abbiamo davanti per indirizzare sempre in maniera più mirata le nostre tecnologie. C'è da dire che questo viene inserito in una cornice, quello del Gemelli ART, che è anche un polo. Il gioco ART come arte e ART come Advanced Radiation Therapy è proprio sul creare anche una cornice di accoglienza per i nostri pazienti, dove queste tecnologie non vengono solo proposte in maniera individualizzata, ma personalizzata, quindi integrate in una medicina umanizzata per la persona. Dottore, lei recentemente è stato insegnato di un premio importante. Ci racconti? Assolutamente. Sono stato onorato di ricevere un riconoscimento per i giovani ricercatori specializzanti in America al congresso della società americana di radioterapia, la più grande società di radioterapia al mondo. Questo premio è stato conferito per una ricerca sulla capacità di predire delle lesioni secondarie metastatiche epatiche in pazienti che non hanno metastasi alla diagnosi sulla base di alcuni parametri quantitativi delle risonanze magnetiche che si fanno prima e dopo il trattamento. Questo vuol dire individuare prima quali pazienti possono beneficiare di un'intensificazione di trattamento e quali invece possono meritarsi solo cure più leggere. In questa maniera, indirizzando meglio le nostre cure, possiamo risparmiare tossicità ai pazienti che avranno una prognosi migliore attraverso lo studio dei modelli predittivi e invece concentrare le nostre cure sui pazienti che necessitano di un'attenzione maggiore per il loro rischio di avere delle lesioni secondarie. Le eccellenze italiane. Grazie mille. Grazie a voi.